Si chiude a Matera la seconda edizione, l'undicesima invece per vini da terra estreme, con un bilancio sicuramente positivo, avete registrato una crescita di presenze e anche di attenzione per i vini eroici? Sì, dobbiamo confermare, quest'anno è andata veramente molto bene, da fin alla partenza al Conservatorio, con la serata con Massimo Scatolini e Paolo Tagliamento e l'orchestra fatta dai giovani del Conservatorio. A seguire, ieri, c'è stata una grande affluenza di appassionati di vini e anche di operatori. Oggi è la giornata dedicata solo agli operatori e anche in questo caso l'affluenza è stata interessante. Un rapporto, quello fra vini da terra estreme e la Basilicata, che si rinnoverà già nel mese di novembre e nei prossimi giorni? 18, 19, 20 novembre. Villa Braida, Mogliano Veneto, Treviso, ospiterà le cantine Lucane. È un inizio di collaborazione e di scambio di relazioni tra vini da terra estreme del Triveneto e la Basilicata. Che cosa pensa rispetto a questa iniziativa? È stata utile anche per sensibilizzare i visitatori, tanti visitatori attenti, verso i vini eroici che rappresentano anche un segmento più di nicchia rispetto alla cultura enologica in senso più ampio. Sì, i vini eroici sono proprio un segmento di nicchia, un segmento interessante, un segmento che interessa moltissimo l'estero. Giappone, Inghilterra, Svizzera, Germania, sta accogliendo questi vini con grande interesse. È chiaro che c'è un interesse forte anche verso le regioni italiane. Basilicata è una piccola regione ma che accoglie molti locali, soprattutto un grande movimento turistico estero e quindi non può mancare, i vini da terra estreme non possono mancare. Possiamo raccontare di un rapporto che si è rinnovato e che ha visto più imprese protagonista? Sì, si è rinnovato, si è consolidato anche con aziende che già precedentemente avevano aderito alla decima edizione perché questa è l'undicesima di vini da terra estreme, la seconda nella nostra provincia, nella nostra matera. L'obiettivo è quello di continuare ulteriormente, anzi di accompagnare le nostre imprese su altri territori, su altre manifestazioni, sempre con vini da terra estreme, non solo in Italia ma anche all'estero. Stiamo cercando appunto di creare una piattaforma e una strategia per poter fare un percorso che ci veda anche uniti ad altre nazioni europee, non solo, al Triveneto che è la base di questa attività, ma allo stesso tempo cercare di fare cultura nel nostro territorio. Dobbiamo imparare a stare insieme, dobbiamo imparare a costruire percorsi virtuosi. Questo percorso sta dimostrando che siamo sulla strada giusta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.